e amici di visione tv benvenuti a un nostro nuovo approfondimento è tornato a trovarci franco fracassi giornalista d'inchiesta ciao franco ciao anche fra i maggiori esperti in italia forse non solo in italia rispetto alle dinamiche che hanno portato il laboratorio di one ad essere insomma al centro di questa vicenda che oramai da più di un anno sta condizionando il mondo intero ha scritto questo libro franco prego la regia di mandarlo in sovraimpressione i misteri di one ecco ci sono degli aggiornamenti importanti rispetto alle precedenti conclusioni alle quali franco era arrivato per il tramite dei suoi studi cose molto gravi molto seri però come al solito nel suo stile documentate e precise franco cosa hai scoperto di nuovo rispetto a quello che già sapevamo allora ho scoperto innanzitutto che da quello che ci sono rapporti scientifici ce ne sono tantissimi pubblicati negli ultimi anni emerge sempre di più che a il virus credo che ci siano mi stupirei se non se non fosse uscito dall'alberatore di Wuhan il virus che circola b era un virus che loro stavano lavorando da tempo addirittura è stato un virus trasformato allora questo virus trasformato è diciamo viene trasformato per due motivi per fare vaccini e per fare armi biologiche che teoricamente sarebbero vietate dappertutto solo che ci sono molti paesi che ce l'hanno e dei paesi hanno si sono rifiutati alcuni paesi sono rifiutati di firmare la convenzione recente delle nazioni unite che li non solo li monitora queste armi biologiche ma che costringe i paesi che ce l'hanno a fare entrare i tecnici delle nazioni unite i scienziati nazioni unite a verificare quello che si sta facendo il principale di questi paesi che si è rifiutato di firmare queste cose non ha mai firmato sono gli stati uniti d'america allora cosa ho scoperto il laboratorio di Wuhan è un laboratorio militare un laboratorio cinese militare i francesi si sono a un certo punto sfilati da tutta quanta questa vicenda di Wuhan dopo averlo costruito perché sono resi conto che i cinesi facevano qualcosa in quel laboratorio che non si doveva fare oltre diciamo le normali ricerche a quel punto sono arrivati gli americani allora gli americani perché sono arrivati perché gli americani hanno costruito nel corso degli anni a partire dalla presidenza di George Bush ma poi hanno continuato una presidenza successiva hanno costruito una rete enorme molto capillare in tutto il mondo in oltre 25 paesi di tutti i continenti di oltre 200 laboratori identici a quello di Wuhan e per identici intendo laboratori che hanno gli stessi sistemi di sicurezza esattamente gli stessi sistemi di sicurezza che come provano documenti del governo degli Stati Uniti sono altamente insicuri dove si fanno lo stesso tipo di esperimenti pericolosissimi dove si lavorano gli stessi scienziati che lavorano a Wuhan più o meno perché poi si alternano o girano in laboratori questi scienziati e dove si producono armi armi biologiche in più essendo militari ovviamente la l'opacità di quel che accade là dentro è veramente massima allora la cosa che a me ha molto sconvolto ha molto sconvolto è questo diciamo il fatto che non si impara mai dagli errori allora è successo quello che è successo a Wuhan gli Stati Uniti non non danno il minimo accenno di firmare questo trattato internazionale di chiudere o smettere quantomeno con quel tipo di esperimenti nei vari laboratori di dare una risposta ai governi di quei paesi perché ci sono faccio un esempio uno dei paesi in cui ci sono più laboratori è l'Ucraina avete capito bene l'Ucraina cioè il paese per cui noi stiamo facendo le sanzioni eccetera eccetera per capire come in che situazione si trova l'Ucraina bene in Ucraina nel 2006 quindi stiamo parlando di una vita fa gli Stati Uniti hanno costruito ben 16 laboratori militari dove si fanno esperimenti innanzitutto sulla SARS e poi si armi alla SARS in poi si fanno esperimenti su virus altri virus pericolosissimi allora ci sono dei parlamentari ucraini che hanno chiesto più volte al governo degli Stati Uniti di fare chiarezza su quei laboratori hanno chiesto più volte al loro governo di fare chiarezza su quei laboratori ma quanto pare essendo zona extraterritoriale il governo ucraino non ci può mettere non ci può fare nulla a meno che non dichiari guerra degli Stati Uniti devono essere gli Stati Uniti a ritirarsi e questi laboratori sono stati messi poi in maniera diciamo molto subdola tutti ma proprio tutti al confine con la Russia come non so come dire quasi come una minaccia oramai non si fanno più le minacce con le armi nucleari perché si sa che nessuno tirerà mai ma si possono fare le minacce benissimo con le malattie e con le armi biologiche e in questi anni sono scoppiate una serie di epidemie al confine russo-ucraino uccidendo ogni volta centinaia di persone tutte epidemie stranissime per esempio c'è stata una alla SARS nel 2018 una SARS era un tipo di polmonite che nessun medico riusciva a comprendere insomma molto simile a questo al SARS-CoV-2 che ci ha che ci ha travolto tutti quanti nell'ultimo anno e mezzo e se si va a vedere per esempio in quel caso lì nel caso più recente dove sono avvenute le morti e si traccia su una cartina tutti quanti i puntini di queste persone che sono morte è incredibile la vicinanza geometrica proprio una sorta di cerchio intorno a uno di questi laboratori americani ecco la cosa io la trovo pazzesca e trovo assurdo che la comunità internazionale non faccia nulla in questo senso ecco quindi se abbiamo ben capito franco tu stai dicendo c'è un gruppo di scienziati insomma di potere ecco che prevalentemente risponde agli stati uniti al potere politico degli stati uniti d'america però immagino che siano scienziati di diverse nazioni quindi sarà un gruppo apolito magari composto da diversi scienziati no ora ce lo spiegherai tu che va a installare centrali laboratori pericolosissimi dove vengono fatti diciamo questi esperimenti per ingegnerizzare questi virus come a one come accaduto a one però non ci sono solo a one ce ne sono altri in tante parti del mondo in particolare 16 in ucraina ora tu hai detto una cosa tu hai detto questi questi laboratori poi dici se ce ne sono anche in altri paesi che tu sappia di esempio la georgia che è sempre un paese europeo alla periferia di tbilisi perché poi queste cose le fanno nelle città in georgia dalla periferia di tbilisi c'è uno di questi laboratori allora c'è in georgia un diversi parlamentari hanno denunciato il fatto che ci sono stati ben 79 cittadini georgiani che sono stati usati come cavi umane per esperimenti sui virus e la cosa credo sia pure abbastanza grave ecco quindi diciamo anche in georgia oltre che in ucraina c'è questo tipo di laboratorio tutti questi laboratori tu hai detto sono gestiti un po dallo stesso gruppo di scienziati di persone eh dal pentagono ma sono tutti uomini in un modo o nell'altro vicino a fauci sì allora in realtà il gruppo un po più allargato fauci sicuramente è a conoscenza di tutto quanto questo ed è uno dei promotori lo è anche uno scienziato britannico che ha che è presidente di una organizzazione non governativa statunitense che si chiama eco health alliance lo scienziato si chiama peter dashak dashak è colui che eh faceva parte anche del comitato delle dell'oms che è andato a eh investigare su Wuhan praticamente ha investigato su se stesso ed è anche colui che ha fatto ehm che ha costretto eh altri ventisei illustri scienziati a gennaio dell'anno scorso quindi ancora quando la SARS-CoV-2 non era una eh una malattia diciamo nota a tutti quanti noi almeno così ci dicevano a scrivere una lettera ufficiale un articolo al al Lancet che è uno dei più prestigiosi giornali scientifici del mondo in cui si diceva che il tutto quello che era successo a Wuhan era frutto di una zoonosi cioè di un passaggio da animale animale fino all'uomo attraverso il mercato del pesce cosa che si è rivelata una balla colossale ma in più ha aggiunto sempre in quell'articolo eh d'Ashak eh chiunque la pensa in maniera differente è un complottiste dice balle cosa che in un articolo scientifico non si è mai letto nella storia dell'umanità queste cose si leggevano quando c'era Galileo Galilei non nel 2021 nel 2020 e non so come dire eh ci sono ce ne sono anche molti altri scienziati che che dirigono però la cosa essenziale è che si tratta di roba del Pentagono e della CIA cioè i fondi non solo le strutture ma i fondi arrivano esattamente da lì e sono fondi molto cospicui sta parlando di qualche miliardo di senti Franco questi questo gruppo di di pressione che che risponde al Pentagono va a installare diciamo questi laboratori in giro per il mondo ma i paesi che accolgono queste strutture hanno il controllo di questi laboratori o diciamo il laboratorio che sta in Georgia risponde direttamente al Pentagono e bypassa le autorità di quel paese e lo stesso avviene a Wuhan lo stesso avviene in Ucraina cioè chi dà al Pentagono l'autorità per installare laboratori pericolosi all'interno di paesi formalmente sovrani addirittura come nel caso della Cina apparentemente nemici allora intanto loro il motivo per cui loro fanno questi laboratori ufficiale è per fare la lotta al terrorismo allora noi sappiamo bene che che vuol dire per gli Stati Uniti fare la lotta al terrorismo e soprattutto in nome della lotta al terrorismo gli Stati Uniti hanno costruito basi militari al di là dei laboratori ovunque e una volta che fanno una di queste strutture può essere una base militare o un laboratorio militare diventa territorio statunitense cioè nessuno ci può mettere bocca se tu provi a entrare dichiari guerra agli Stati Uniti quindi gli Stati non hanno nessun controllo di questo con la Cina è un discorso differente perché ovviamente la Cina è un paese così potente che non è che si fa mettere i piedi in testa facilmente agli Stati Uniti è un discorso differente perché io ho scoperto e questa cosa mi ha abbastanza turbato che da molti anni esistono contatti molto stretti a livello ai massimi livelli diplomatici tra Stati Uniti e la Cina per fare sviluppo di armamenti comune cioè ci sono industrie americane che vendono tecnologia ai cinesi industrie cinesi che vendono tecnologia agli americani per sviluppo di armi allora uno dei personaggi devo dire ci sono due personaggi che sono è una cosa totalmente bipartisan cioè ci sono due personaggi che in qualche modo hanno a che fare con tutta quanta questa vicenda uno è hunter biden e il secondo è jared kushner quindi è una cosa non so come dire e mi vien da pensare che è qualcosa che va molto al di là dei singoli presidenti le singole persone fermati un attimo franco quindi tu stai dicendo dietro questo giro cioè allora facciamo un estrema sintesi non sto dicendo che sono solamente loro sto dicendo no no aspetta aspetta perché è importante sta cosa che dici dici il quadro che ci stai delineando è questo siamo dentro un clima di guerra batteriologica che è la nuova forma di guerra perché quelle di altro tipo non sono proponibili questo tipo di guerra batteriologica che è più dissimulata delle altre perché non si vedono gli eserciti non è facile capire chi combatte con chi chi è contro chi vede vede come avamposti militari questi finti laboratori per la condanna del terrorismo che poi in realtà sono centrali militari prevalentemente nelle mani del pentagono il gruppo di potere di uomini che controlla questo giro dentro il gruppo fra gli altri ci sono il figlio dell'attuale presidente degli stati uniti hunter biden e il genero dell'ex presidente trump kushner dove li hai trovati tutte e due come fai a metterli insieme dentro lo stesso gruppo che elementi hai allora ci sono partiamo da hunter biden ci sono diverse inchieste condotte dai dai medi americani media diciamo del tutto neutrali nel senso non sono né 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 democratici né repubblicani che che hanno tracciato una sorta di di mappa delle società che hunter biden con cui hunter biden trattava in cina perché hunter biden gestisce sta nei consigli di amministrazione senza percepire stipendi una cosa stranissima sono stati consigli di amministrazione di una serie di società statunitense a cui alcune società anche di energia e tratta con alcune altre società cinesi queste queste società trattano le società cinesi in più sta nei consigli di amministrazione di alcune società ad alta tecnologia anche usata per scopi bellici statunitensi allora questa cosa questo scambio dove risulta risultano accordi risultano spedizioni di tecnologia da una parte all'altra apparentemente avviene con diciamo aziende che non dovrebbero testare sospetti anche se ovviamente uno scambio di tecnologia militare non è normale tra cina e stati uniti però andando a vedere io diciamo questo è quello che tracciavano questi articoli dopodiché mi sono mi sono accessi una serie lampadine perché io conosco l'altra parte cioè come se uno attraversa c'è un fiume in mezzo tira un ponte da un lato ma se non c'è il ponte che arriva dall'altra parte non lo riesce a attraversare questo fiume e io c'ho quello dall'altra parte cioè chi sono queste società sono innanzitutto tutte le altre società legate al potere centrale di pechino quindi dentro c'è la presidenza cinese quindi una cosa ai massimi livelli in più queste società queste società cinesi sono società che hanno molto a che fare con il laboratorio di wuhan e sono società che hanno le diciamo alcuni personaggi che fanno parte invece società americane sono sono personaggi che hanno a che fare con questo giro stranissimo di organizzazioni non governative organizzazioni governative e società varie che stanno dietro questa immensa e migliaia di laboratori questo per quanto riguarda hunter biden per quanto riguarda jared kushner lui ha fatto una serie di incontri con lui traffica diciamo società sue ecco che fanno affari con la cina e e in quel caso lì ho scoperto una stranissima coincidenza nel senso che lui ha fatto dei viaggi ad altissimo livello in cina dove ha incontrato tutti in più incontrando anche molte volte l'ambasciatore cinese a washington e tutti quanti questi incontri sono coincisi con delle ma proprio concisi temporalmente c'è avvenuto lo stesso giorno il giorno prima insomma comunque sono concisi temporalmente con gli sviluppi del laboratorio di wuhan cioè il primo è stato quando gli americani hanno deciso di riprendere gli esperimenti questi esperimenti guadagni di funzione e riprenderli nel laboratorio di wuhan il secondo è conciso quando quando i cinesi hanno permesso agli americani di mandare nel laboratorio di wuhan gli ispettori per controllare e così via cioè come se lui diciamo queste cose che sono avvenute nel laboratorio wuhan sono avvenute ai massimi livelli americani e cinesi quindi diciamo anche da questo racconto verrebbe fuori diciamo una una verità diversa che anche diciamo nel modo di fare di trump apparentemente contrario a diffondere paura intorno a questa pandemia poi insomma è smentito dall'atteggiamento di questo suo genero questo kushner che era considerato quasi l'eminenza grigia del presidente secondo te trump ha giocato più parti in commedia franco può essere diciamo che kushner per quanto mi riguarda è sempre stato molto inquietante come personaggio insomma lui la sua famiglia loro sono tra i loro sono i principali finanziatori al mondo di tutte quante le colonie ebraiche ci sono in cisgiordania sono ultra ultra nazionalisti israeliani insomma sono dei personaggi non esattamente pacifici sto parlando della famiglia kushner ecco trump allora il primo di questi viaggi cioè quello che coincide con la ripresa delle delle attività diciamo di questi esperimenti molto pericolosi a wukan l'ha fatto insieme kushner ha fatto insieme a trump è il secondo grande viaggio che compie trump all'estero e si soffermi in cina un po più del dovuto e fa tantissimi incontri trump in quell'occasione lì adesso io non so cosa ovviamente cosa si sia detto con tutte quante le varie persone che ha incontrato però in a un in uno di questi viaggi molto importante che forse quello più importante di tutti non c'era kushner da solo ma c'era anche trump allora io considero trump tante cose ma sicuramente non uno stupido e quindi non so ovviamente non ho prove per dire che trump fosse cosciente di quel che si stava facendo però insomma è pur sempre il presidente degli stati uniti e in qualche modo lui ha fatto gli incontri allora o è un succube del suo genero cosa possibile oppure ci ha messo anche del suo senti in europa occidentale esistono laboratori di questo tipo franco sono vietati quindi in tutta l'europa occidentale non ce n'è neanche in territorio americano ce ne sono dei simili ce ne sono ce ne sono ce ne sono molti in territorio americano peraltro ho scoperto che c'è un laboratorio nello iuta anzi ti dico pure come si chiama da guei si chiama che è un laboratorio costruito nello iuta dagli dagli americani degli anni 40 che un laboratorio che dove non è un laboratorio anzi è un'area e come l'area dove si 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 testavano le le bombe atomiche insomma è un'area gigantesca e in questo quest'area dello iuta serve esclusivamente per testare armi chimiche e biologiche non serva altro si fa questo e tutti gli abitanti che stanno intorno a un laboratorio dove non si non penetra mai nulla da fuori cioè è uno di questi luoghi super segreti insomma che ci sono negli stati uniti ma chi vive intorno ne paga le conseguenze per esempio qualche anno fa c'è stata un'improvvisa moria di migliaia di pecore uccise di botto una notte sono morte tutte quante non si capisce perché sono morte tutte queste pecore che pascolavano gli al confine con quest'area ogni tanto c'è qualcuno che muore il il è successo pure un episodio che sarebbe comico se non fosse drammatico nel 2019 è stato arrestato il capo il generale che era capo di questa base perché era uno è un tipo il dottor stramore cioè un pazzo totale che faceva esperimenti di ogni sorta faceva esperimenti su soldati faceva esperimenti su altre cose aveva fatto aveva costretto i suoi sottoposti a gli scienziati che lavoravano a nascondere tutte quante le prove c'è stata un'indagine federale anche abbastanza complicata e alla fine hanno arrestato questo comandante insomma è come se fosse un'area extraterritoriale insomma negli stati uniti ci sono questi laboratori ford itrick ai confini di washington è sicuramente uno di questi laboratori franco sai cos'è che spesso ci si domandano se queste notizie sei riuscito ad accedere tu che sei un brillante giornalista di inchiesa però probabilmente ci sono diciamo servizi intelligence di grandi paesi magari geopoliticamente anche nemici degli stati uniti che ci possono arrivare come ci sia arrivato tu penso alla russia però ha denunciato queste cose più volte sono gli da retta nessuno a quindi la russia ha messo ha denunciato più volte queste cointeressenze ma non passano nei giornali sui medi occidentali però tu hai notizie che il potere la c'è le autorità russe hanno spesso evidenziato queste strane commissioni lo stesso lavrov ha rilasciato più di un'intervista in cui ha raccontato queste cose il lavoro per il ministro agli esteri russo però ad esempio Vladimir Putin nel suo ultimo intervento pure che abbiamo lungo insomma dove ha parlato di questioni di politica interna però ha fatto un cenno anche alla questione vaccinale ne ha parlato in termini generici non ha mai detto in quel suo intervento è una guerra batteriologica no ha detto vabbè insomma sembrava un po' una narrazione calibrata anche su quella preparata dalle cancellerie occidentali cioè ha detto vacciniamoci e ne usciremo ecco penso che anche lui è consapevole di cosa ci sia dietro in realtà a questo tipo di operazione immagino di sì ma Putin per come ho imparato a conoscere in questi vent'anni insomma di sua presidenza è una persona molto accorta cioè è molto diverso lo descrivono come una specie di pazzo egomaniaco mentre invece è una persona di grande intelligenza la scuola dal KGB gli ha insegnato di essere un ottimo diplomatico ed è una persona accorta cioè è difficile che Putin dice una parola fuori posto quindi tu dici anche se lui la sa la verità se ritiene tatticamente che non è utile o la pubblica opinione mondiale non è pronta non la dice solo per per lasciare una testimonianza ma perché dal punto di vista della sua realpolitik non gli conviene ma questo non significa che lui non si renda conto di quello che sta circondato la russia di questi laboratori ci sono in ucraina ci sono in orli sono in azerbaijan ci sono in kazakhistan ci sono in kirghizia ci sono in moltissime delle ex repubbliche sovietiche quindi hanno proprio circondato la russia senti franco hai detto un'altra cosa tu ho l'impressione quindi che questa che ormai si può dire in termini di quasi di certezza che questo virus è nato lì nel laboratorio di one e che non è neanche uscito per caso da lì su questo hai avuto i tuoi studi le tue ricerche hanno prodotto qualche risultato ulteriore rispetto a quello allora ripeto come ho sempre detto io non ho la pistola fumante perché purtroppo l'unico modo per avercela è che o qualcuno parli oppure che ci si permetta realmente di investigare su quel laboratorio e i cinesi non lo permettono allora però mettendo insieme tutti gli elementi che sono prove anche di una certa pesantezza in alcune case indiziarie in alcune case in altri casi cose logiche in altri casi cose anche pesanti mettendo tutte quanti insieme cioè sembrerebbe non so come dire evidente che il virus venga da lì veramente mi sorprenderei tantissimo se non fosse così e sembrerebbe evidente che il virus non il virus non è non è altro non sia altro che un virus chimera ovvero un virus modificato e i virus chimera sono frutto di quel tipo di esperimenti che sono esperimenti militari e per i vaccini aggiungo una delle aziende che faceva questi che collaborava a questi esperimenti a vukan e la johnson e johnson che è quella che ha prodotto il vaccino monodose quindi quello più apparentemente migliore di tutti insomma e stavano lavorando su ben nove ceppi di virus di virus molto molto simili uno di questi è molto simile a quello di al sars cov 2 degli altri 8 i cinesi hanno nascosto improvvisamente durante le informazioni ma chi ci ha lavorato pronto a giurare che erano ancora più simili al sars cov 2 di cui si pensa uno di questi sia proprio il sars cov 2 e ci stavano lavorando da anni quindi la situazione è questa vantaggio enorme rispetto a tutti gli altri perché vorrei ricordare la sars addetta del governo australiano è la miglior arma biologica che esista al mondo e quindi tutti coloro che hanno armi biologiche stanno cercando di sviluppare armi alla sars adesso cerchiamo però ho capito che la narrazione mainstream per usare un eufemismo non è estremamente convincente il pangolino il pipistrello poi che si accoppia non c'è nessuna lo dicono i stessi scienziati non c'è nulla che dimostri questo nulla zero ecco vabbè però per loro insomma loro utilizzano la solita tecnica di ripetere una menzogna all'infinito fino a quando qualcuno non si stanca di capire se è vero quindi il pangolino il pipistrello poi c'è il corpo intermedio poi salta all'uomo poi risata insomma questa sarebbe le cose che dicono gli scienziati le persone serie non c'è nessuna prova dici tu su questo però loro lo ripeto va bene diamo per buono invece che è molto più razionale immaginare che siccome questo laboratorio pericoloso per esperimenti diciamo chimerici era proprio lì come la pandemia l'epidemia quello che sia è partita proprio da lì siccome ci lavoravano lì proprio quelli che si stanno ora arricchendo vendendo diciamo gli strumenti per un problema che nasce in un laboratorio che loro controllano forse non è che ci vuole proprio il commissario basettoni per capire come come sono andate le cose visto che l'avamposto mediatico e fauci che controllava tanti di quegli scienziati che erano lì e sta spiega che ci dobbiamo mettere 7 8 10 mascherine per superare il problema diciamo che non ci vuole forse una grande fantasia per capire come sono andate le cose ma facciamoci la domanda delle domande franco perché sennò questo ragionamento non avrebbe un nesso logico qui protest qui protest premesso che io penso si sia trattato di un incidente perché gli incidenti in questi laboratori sono frequentissimi quindi se si trattava un incidente non è che c'è stata la volontà di 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 infettare l'intero pianeta insomma è una se si va a leggere quello che scrivono questi scienziati sembra veramente gli scienziati pazzi perché loro mettono davanti a tutto quanto il valore della scienza cioè la scienza vale più della vita umana cioè la scienza sa soprattutto una cosa che diciamo andava bene nel nel periodo positivista stiamo parlando della seconda parte dell'ottocento dell'inizio novecento gli illuministi ma nel 2021 bisognerebbe avere maggiore accortezza per la vita umana che per una ricerca per una diciamo scoperta scientifica per loro ha più importanza di ogni cosa allora per andare al passato per esempio immaginate tutti gli scienziati che hanno in qualche modo contribuito direttamente o indirettamente alla costruzione della bomba tonica no Einstein uno di questi Einstein dopo che ha visto gli effetti di quello che lui aveva in qualche modo con le sue teorie con aveva contribuito a realizzare è diventato il primo pacifista del mondo e così moltissimi altri scienziati e così anche c'è anche qualcuno che si è suicidato dopo che si è reso conto della mostruosità che aveva creato perché all'epoca non si rendevano conto ecco io diciamo ho il beneficio del dubbio ci siano alcuni di questi scienziati che non si rendano conto dopodiché dall'altra parte sono le autorità allora prendiamo le autorità statunitensi fino a dove il potere si può spingere per fare per perpetrare se stesso e per rinforzarsi e questa è una delle domande a cui bisognerebbe rispondere nella storia abbiamo visto non so se sia questo il caso ma insomma nella storia abbiamo visto che spesso gli Stati Uniti il potere in quel momento al comando negli Stati Uniti è stato capace di passare sopra qualsiasi cosa qualsiasi cosa americani non americani prendiamo sempre l'11 settembre ma potremmo prendere tantissimi altri esempi quindi diciamo che la moralità spesso in queste persone non alberga proprio senti l'utilizzo di questa epidemia di questo problema sta cambiando i rapporti sociali sta cambiando i rapporti di forza stiamo entrando dentro obiettivamente un mondo differente ci dicono che la normalità che conoscevamo è finita per sempre tu hai l'impressione che non finirà più diciamo questa questa situazione di emergenza ci è diventata un'emergenza cronica non lo so questo ovviamente non ho la palla di vetro quello che so è che gli esseri umani si abituano facilmente alle cose è una delle delle diciamo delle doti degli esseri umani e quindi diciamo la la situazione di come quella stiamo vivendo adesso insomma magari per buoni motivi insomma di bypassare alcune regole costituzionali democratiche in funzione del del salvataggio di vite umane una volta che uno ci sia abituato magari in futuro si potrebbe ripresentare una stessa cosa per delle sciocchezze come dall'altra parte io temo temo che questa di wuhan non sia una cosa un unicum perché se ci sono così tanti laboratori identici che possono creare nuove nuove pandemie potrebbe tranquillamente accadere che tra un mese sei mesi un anno cinque anni si presenti una nuova pandemia magari molto molto peggiore molto più distruttiva del del covi franco non si parla più di cina c'è all'inizio venivano immagini dalla cina appena scoppiò il problema ogni giorno i nostri giornali raccontavano di quanto era terribile situazione a wanne gli ospedali costruiti in tre giorni persone che venivano in mezzo alla strada l'involtino primavera del pd insomma ci ricordiamo si parlò molto del di cina poi all'improvviso senza un vero perché l'argomento cina coronavirus è sparito in contemporanea da tutti i media sia mainstream che diciamo anche quelli dovrebbero essere in teoria un po più alternativi c'è una motivazione o semplicemente insomma non gli interessa più si sono stancati parlare di cina c'è che succede oggi in cina tu sai qual è la situazione lì in italia report e presa diretta credo ne parlino ancora della cina forse sono gli unici però loro ne parlano ancora in cina e che succede non sapere che cosa succede in cina è veramente complicato perché il paese è quello che apparentemente hanno riaperto ogni cosa apparentemente hanno questo metodo per cui è sufficiente un solo caso da qualche parte per chiudere interi quartieri interi città in cina questo potrebbero farlo in più in cina hanno un vantaggio dal punto di vista del contenimento che noi non possiamo avere spero che non avremmo mai ovvero grazie allo sviluppo e la diffusione capillare del 5g in cina loro sono riusciti a marcare ogni essere umano che che si muove per il territorio cinese ovvero ogni persona ogni abitante ha una sua una sua sigla e loro sono in grado di seguire attraverso i satelliti attraverso gli schermi anche schermi diciamo video tutto il passaggio delle persone in qualsiasi situazione e sapere esattamente quello che stanno facendo dove stanno facendo con chi si stanno incontrando e così via e questo ovviamente dal punto di vista del virus per come intendiamo noi la cosa è uno straordinario strumento di contenimento ed è anche uno straordinario strumento di contenimento sociale e credo che non spero spero vivamente che una cosa del genere non possa mai accadere in italia in europa ecco i giornali del mainstream italiano insomma occidentale in genere hanno puntato sempre il dito spesso diciamo sui sui leader dei paesi così guidati da cosiddetti populisti per per spiegare alla nostra pubblica opinione come eravamo fortunati noi ad avere conte poi draghi anziché i vari trump bolsonaro e ora modi ecco leader populisti perché questo virus in genere si accaniva contro i paesi dove guidavano i populisti ora il turno dell'india che tu sappia questa narrazione diciamo così terribile sulle situazioni in india è vera o è il risultato insomma del solito giochino che fanno i grandi giornali giornali più venduti cioè abbiamo letto le i 3 mila morti indiani rispetto a un miliardo e quattrocento milioni di persone cioè bastano per legittimare questo questa questa narrazione poi dicono che bruciano le persone ma le stanno bruciando adesso quello diciamo una ritualità antica che non c'entra niente col coronavirus che tu sappia devo confessare che non sono in grado di rispondere nel senso ho visto le immagini televisive come le abbiamo visto in tanti apparentemente sembra una situazione disastrosa in india in india però la situazione disastrosa e quotidiana quindi non non sono in grado veramente non sono in grado di distinguere se si tratta di qualcosa in più rispetto al normale oppure si tratta della quotidianità che semplicemente ci colpisce insomma differenza di altre volte ma che tu sappia in india ci sono laboratori di questo tipo di quelli che abbiamo analizzato prima sappia credo di no se vuoi posso controllare potrebbe essere interessante perché sai se alcuni paesi magari fanno politicamente muro rispetto alla richiesta di installare dei laboratori poi è pensabile pure che non ci sono ecco magari forse se ce n'era qualcuno li trattavano meglio senti franco quindi tu hai detto anche un'altra cosa per chiudere questa intervista guardate che questi questi laboratori che sono delle del pericolo per l'umanità dislocati un po dappertutto potrebbero in futuro provocare nuove epidemie anche peggiori rispetto a questa non è possibile immaginare una moratoria c'è una richiesta per metterli a bando dappertutto ma c'è la richiesta il problema è che questi laboratori sono vietati gli stati uniti si rifiutano di firmare il trattato internazionale che stabilisce queste cose il problema è questo quindi diciamo non c'è la forza politica di mettere al bando dappertutto perché gli stati uniti coprono questo sistema e lo facevano tanto con con biden che con trump e bene insomma non è molto rassicurante come questione però insomma la situazione è questa rifacciamo rivedere il libro di franco fracassi in conclusione posso dire come si fa ad avere questo certo vai franco i misteri di one non lo potete fare in nessuna libreria non potete trovare su amazon l'unico modo per acquistarlo è scrivermi un'email alla mia email personale che è franco fracassi 1 a numero chiocciolagmail.com franco fracassi 1 chiocciolagmail.com voi mi scrivete e io vi spiegherò come fare ad averlo e tutti coloro che riceveranno il libro lo riceveranno con la dedica anche se volete fare un regalo il libro sarà con la dedica alla persona a cui vorrete regalarlo perfetto quindi possiamo dire che franco in definitiva questo più che diciamo dell'epidemia il sapore della guerra batteriologica il clima che stiamo vivendo adesso sì anche se la guerra batteriologica è qualcosa di volontario in questo caso qui credo sia una cosa involontaria che però quando uno crea un mostro e lo tiene in luoghi insicuri è capace che questo mostro esca con facilità e poi uccida tutti bene cari amici di visione tv si conclude qui questa nostra intervista io ringrazio di nuovo franco fracassi vi invito ad acquistare il suo libro noi non smetteremo di indagare intorno a questa vicenda anche se i nostri giornali sono più interessati a sapere diciamo se cosa dice fedez quanti figliuolo quanti vaccini ha fatto oggi noi cercheremo di capire insomma la genesi di questa tragedia che forse se riusciamo a capire dov'è il come è nato questo questo grande problema riusciremo magari in futuro ad evitare che certe atmosfere possano ritornare vi ricordo che noi possiamo fare tutto questo soltanto grazie al vostro aiuto e sostegno che potete garantirci con bonifico paypal agli indirizzi che la regia ha mandato in sovraimpressione oppure abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it grazie alla prossima